E' stato un grande piacere perché i tifosi hanno capito che era un momento difficile, perché noi siamo i primi che quando andiamo in campo non riusciamo ad esprimere quello che vorremmo, siamo quelli che stanno comunque peggio, perché durante tutta la settimana provi determinate cose, poi arrivi in campo e non riesci ad esprimerle, quindi possiamo solo dire grazie ai tifosi che ci sono stati vicini. Il dispiacere più grosso quando arrivi a casa è normale, ci stai male perché non sei riuscito a esprimere quello, ma soprattutto perché non sei riuscito a raccontentare i tifosi, la gente che ti ha sostenuto per tutta la partita. Quindi un grosso grazie e adesso dobbiamo ripagarli. Sarà una lotta per noi perché dobbiamo riprenderci quello che abbiamo un po' perso, quindi per noi sarà una lotta e dovremo mettere tutti noi stessi, dovremo mettere quel qualcosa in più sul campo per far sì che arriverà un risultato positivo per noi. Sì, sarà un ambiente ostico perché loro devono fare punti per salvarsi, però a livello di motivazioni direi che ne abbiamo anche noi molte, quindi sarà una bella lotta, sarà un ambiente che secondo me ci può dare soltanto la carica giusta per far bene. Il nostro obiettivo è quello di salire in Serie A e facciamo tutte le settimane, ci alleniamo uno a fianco all'altro conquistando centimetro per centimetro per arrivare a quello che vogliamo, cioè i nostri obiettivi, perché poi è normale, non vogliamo poi vedere a fine anno gente che festeggia il posto nostro. è la cosa, quindi vogliamo tenerci più stretto possibile queste cose che ci siamo conquistati, perché salire in Serie A non è una cosa facile, c'è il campionato di B, è un campionato tosto, un campionato lungo, un campionato difficile, campionato con delle sorprese, con degli ostacoli, e noi ci siamo meritati dove siamo, forse adesso purtroppo non è quello che speravamo, però siamo lì che stiamo lottando, quindi non penso che ci siano pressioni particolari, dobbiamo semplicemente fare quello che più amiamo, cioè giocare a calcio e dare soddisfazione ai tifosi e alle persone. Grazie.